il discorso di Weber il discorso di Schmitt cioè dopo tutto sono capitalisti e comunisti fanno le stesse cose sono la stessa cosa stanno al mondo con le stesse idee semplicemente fanno a gara gli uni contro gli altri per chi fa meglio la stessa cosa chi comincia quel genio comincia non sto dicendo che la critica della tecnica è fatta da sciocchi vi ho detto però il modo con cui come è nata e come è stata pensata Vinice le vedeva tutte le vedeva tutte umano troppo qui c'è una serie di citazioni umano troppo umano primo volume pagina 281 della traduzione italiana noi apparteniamo a un'epoca alla cui civiltà corre il rischio di essere distrutta dai mezzi della civiltà il lavoro non è libertà che il lavoro sia libertà è la tesi di Hegel ed è la tesi di Marx attenzione il lavoro per Marx è reificazione adesso ma non è reificazione per sempre qui invece si spazza via tutta il lavoro è dura fatica e se non è dura fatica è meccanizzazione dell'uomo nel lavoro non ne va del soggetto il lavoro non è la via attraverso la quale il soggetto si soggettivizza il lavoro nel lavoro ne va solo del principio di utilità e basta le cose importanti che noi facciamo ne facciamo quando non lavoriamo c'è tutto ci sono i figli dei fiori c'è tutto c'è tutto il novecento frammenti postumi 87 88 quelli che poi vennero chiamati la volontà di potenza noi viviamo in un cito enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole volte al massimo dello sfruttamento e a minimizzare il valore dell'uomo l'uomo si deteriora perché non si sa più a che cosa mai questo enorme processo sia servito il murino che macina se stesso di Novavis automatismo l'orrore della tecnica è che va avanti da solo per questi autori nella tecnica si realizza la forma estrema di ciò contro cui Nietzsche ha filosofato per tutta la vita cioè la duplicazione del mondo la duplicazione del mondo la si fa con la morale esiste un mondo superiore e un mondo inferiore la si fa con la religione e la si fa con la tecnica ogni duplicazione è al tempo stesso manifestazione di volontà di potenza dei deboli e di nichilismo perché quando duplichi il mondo tu con la copia ti servi della copia per distruggere l'originale la morale è un sistema di valori che serve a distruggere le cose di questo mondo che di solito sono beatamente immorali la tecnica è la fabbricazione di un mondo due che serve a distruggere il mondo uno e questa è volontà di potenza ma dei deboli ovvero sia è nichilismo passivo cioè passivo vuol dire ci vai a finire dentro senza accorgertene perché sei un poveraccio sei travolto da quello che tu pensavi fosse il tuo mondo ti mangia è fatto apposta per mangiare il mondo e mangia anche te a tutto ciò contrappone il nichilismo attivo ovvero sia l'oltreuomo quello sì che è un soggetto ma perché non lavora perché fa la guerra perché sfida il destino antiborghese e antisocialista ma non nazista per carità non ci pensava neanche non era un suo problema a parte qualche discrepanza cronologica il problema di che cosa sono non gli veniva in mente gli veniva in mente che cosa quali sono le vie sbagliate lungo le quali si è sviluppata l'Europa moderna pensiero pensiero di mostruosa potenza filosofare col martello pensiero di mostruosa potenza la tecnica voi vedete è investita della questione dell'essere che cosa è essere è l'oggetto prodotto il produttore ha a che fare con l'essere o è soltanto un povero ente e l'oggetto prodotto che cosa diavolo è mai è qualche cosa o è un sogno di potenza che va a finire nella impotenza ovvero sia detto in un altro modo la storia chi la fa la fa non vuormini o la fa la tecnica